OOOOOOOO Salve la gente qui Gabbio e benvenuti alle 3 di mattina del Krusty Krab La pioggia è sott'acqua Va bene Andiamo Questo ambiente cupo Money Money È successo qualcosa? Oh no's Ehi 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 Chi vuole toccare il mio denaro sei tu spongebob sporco Prendi tutti i soldi bene Sistema i crabby patti Vai nel cesso e trova i penni Chiudi e vattene Va bene Però la notte nel Krusty Krab Potrebbe essere spongebob Scooby Siete ancora qui? C'è qualcosa che non va Mi fa morire dal rigere Rigere Morire dal friggere Cos'è? Wow 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 Che è? Oh 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 Quando le luci si muovono devo inasconderti Mi nascondo Mi nascondo Non so, devo barricarmi in ufficio ok non puoi prendermi qua che non puoi prendermi sono qua con i miei soldi non puoi entrare oh è qui è davanti al mio ufficio ma non puoi entrare è sparito bene devo andare avanti devo cercare i penni o penni dopo penni non ruberai i miei soldi stennato sponge the bob ed è dammi dammi dove sono i soldi qui sto cercando ragazzi devo fare in fretta cercando nel cestino la prego non mi uccida mi lasci cercare devo fare in fretta devo fare in fretta ho trovato delle cose ah no è qua no mi ha spezzato avete presente come uccidono i granchi vivi gli scuoliano allora per prima cosa mentre lui sta la a rompere le scatole io prendo ogni singolo penny devo scappare vendo il crusty crab ormai è maledetto questo posto è maledetto ci sono i fantasmi ok lui non c'è più credo quindi posso andare per di qua e prendere anche i miei crusty crabby i crusty gabby si crusty gabby cosa mangia gabby ogni giorno i crusty gabby ti prego non uccidermi questi li ho fatti chiusa che c'è non puoi farmi niente adesso oh mi dispiace ok vediamo lui non c'è perfetto devo prendere i soldi della limonata andiamo avanti così looting la prego la prego non si avvicini spongebob mascherato lo so che sei tu che fai sempre carnevale dai ora arriveranno devo fare in fretta no mi sono chiuso aiuto rimango chiuso in casa donna te io volevo solo diventare ricco ho aperto un locale per questo guarda noi sempre davanti non mi piace uscire patrick squidi spongebob lasciatemi aiuto ok 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 prendo gli ultimi averi me li metto nelle mie tasche tonde ok 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 dai spongebob oh si ok devo uscire chiudermi ah no sta arrivando ok suca suca che ho spento ho preso tutto ora cosa devo trovare ah devo andare nella mia cantina hanno detto ok ragazzi riuscirò a scapparli la chiave da qualche parte in questo magazzino devo trovarla per poter sfuggire dal mostro da squid di squarcio mi vuole squartare a metà no squid di squarcio non farlo non toccarmi o ti lancio i soldi addosso ti accecco con il denaro soprattutto le monete quelle sono appuntite quelle fanno male non toccarmi spongebob lo so che sei travestito tu e patrick siete uno sopra l'altro praticamente avete un mantello e uno sulle spalle dell'altro cercate di spaventarmi per rubarmi il locale siete licenziati siete licenziati i maledetti dov'è? no no è qua no 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 la chiave devo trovare la chiave ragazzi la chiave da qualche parte qua mi parte qualcosa dove hai la chiave? voglio la chiave Krusty Clown basta basta non toccarmi voglio diventare un'aragosta viva ma le regoste vengono uccite viva aspetto la legge no 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 non qui non qui non qui non qui non mi hai visto e non mi vedrà mai più a ap industrii Possiamo uscire dal Krusty Club Oh yeah Dov'era la scala? Era qui Ok, perfetto, perfetto, perfetto Ok Pace e suavità Dell'animo Ok, ora devo soltanto uscire Perfetto Ecco, 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 basta, basta, basta Non mi sta seguendo, vero? Non mi sta seguendo Vediamo un po' cosa c'è scritto Quando costa due euro? Ma stiamo Ma stiamo scherzando? Oh no Ok, forse è meglio che andiamo Mi dispiace Ora vado alla mia macchina E tutto andrà bene Dov'è la mia macchina? Ah, dimenticavo Alla mia barca Ora vado alla mia barca Ah, è vero, non posso lasciarlo aperto Devo, devo chiuderlo Devo chiudere a chiave Ok, scusate Non posso lasciare a SpongeBob e gli altri Rimarranno chiusi là dentro Faranno una muffa Mentre io Con la mia barca Scialpo Oh no Oh no Oh no Non puoi avermi I miei soldi rimangono miei Sì Mamma mia Io vorrei un gioco completo di questo Tipo Bendy and the Ink Machine Ambientato in SpongeBob Secondo me SpongeBob è un ottimo È un ottimo Ricettacolo Per diventare un gioco horror Cioè a tutto All'oceano Cupo La pioggia sott'acqua A tutte quelle cose che Vuoi Sono bellissime E io voglio un gioco horror Adesso Quindi se sei uno sviluppatore Contattami Mandami il tuo gioco di SpongeBob E io lo farò Solo se però È bello Va bene Detto questo Io ragazzi vi ringrazio Per la visione di questo video E noi ci vediamo Al prossimo Patrick Ciao ragazzi Ciao ragazzi